Allora ragazzi stiamo venendo lì a Sala Consilina per questa festa dei Burattini fantastica con quel nome strano, Turricchio, come è che si chiamava? Ma leva di rananzi, vuoi ci potete? A Sala Consilina arriva Burricchio. La prima edizione del Festival dei Burattini si svolgerà l'11 e il 12 giugno nelle piazze Vicoli e Cortili del Centro Storico Salese. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'Associazione Benvenuto Cellini e Teatrino Pellidò, avrà come protagonisti burattinaie e burattinaie provenienti da tutta Italia, che attraverso i loro spettacoli faranno vivere al pubblico due pomeriggi di divertimento e allegria. Il fascino senza tempo dell'arte dei Burattini attira grandi e piccoli da sempre e Benvenuto Cellini, promotore dell'iniziativa, crede fermamente nella rivalutazione del centro storico di Sala Consilina di cui è originario e attraverso questo progetto sogna di riportare tra i vicoli di Sala arte, cultura, socialità e nuove energie. Burricchio è una festa che offre come principale attrazione l'esibizione di burattini, adatti a un pubblico dai 4 ai 104 anni, che potranno assistere agli spettacoli sabato e domenica alle ore 17.30 e 19.30. Date un'occhiata al programma sulla nostra pagina Facebook Burricchio! Ciao!